Lombardi perché ha lasciato la carica di segretario del Pdl Aquilano? Perché ci siamo sentiti abbandonati, abbiamo tutti i consiglieri comunali vissuto una vicenda e la stiamo ancora vivendo, in cui non abbiamo avuto quello che ci aspettevamo che fosse, il sostegno più ampio e più vasto né del partito né degli organi. C'è un po' un affievolimento di tutta l'attività partitica, visto che anche il sindaco si è sentito abbandonato dal suo Pd? Ma il sindaco si è sentito abbandonato forse perché il Pd la ragiona, io auspico, la ragiona con un pochettino minore voracità di bile. Qual è la differenza quindi tra la sua insofferenza e quella del sindaco nel centro-sinistro? La mia non è una insofferenza, è la presa di coscienza che c'è bisogno di lavorare il più possibile, tutti uniti, per il bene dell'Aquila e della città, non soltanto della città ma di tutti i cittadini. Resta nel Pdl? Io sono iscritto nel Pdl, ma il Pdl non può essere la mia bara. Quanto influiranno gli scenari e gli assetti politici nazionali nelle scelte sue e anche nelle alleanze per le prossime amministrative? Almeno altrettanto quanto le nostre scelte per la città e le nostre attività politiche ed istituzionali potranno influire a livello nazionale. Grazie a tutti.